salve a tutti franzo posso supercorri stadan pensavate che anch'io stavo in giro a zonzo no noi qua stiamo a lavorare e lavoreremo anche domani per preparare dei contenuti che questa settimana saranno veramente eccezionali soprattutto per i livelli di abbonamento che sto programmato programmato se voi andate a vedere negli abbonamenti non vi abbonate ora a quelle voci perché in settimana creerò tutti i video speciali che troverete in quelle fasce di abbonamento più alte che poi effettivamente saranno i video che vi daranno la voglia di abbonarvi perché veramente ci sarà di tutto e di più ci sarà il corso per diventare youtuber dove spiego tutto quello che so io e che ho messo in pratica in questo periodo da zero fino ad arrivare a dove sono ora e poi saranno video particolari ragazzi ci sarà il video sul paranormale mio personale ci sarà il video su michael schumacher con tutti i cimeli che ho messo insieme negli anni quindi raga troverete di tutto negli abbonamenti quelli particolari però torna formula 1 news chiaramente pensavate che no è tornata domani ferragosto come da tradizione anche l'anno scorso faremo le pagelle dei piloti nella parte alta della classifica pagelle di metà stagione dei piloti quindi mi raccomando raga belli liquidi partiamo con le news prima di partire come al solito iscrivetevi al canale a questo e sul secondo supercorris 84 lasciate un like seguitemi su tutti i miei social sul canale terram delle offerte supercorris offerte amazon dove metto sempre le migliori offerte di amazon tecnologia videogiochi telefoni volanti c'è il canale ufficiale supercorris 84 italian per le news in anteprimi sondaggiotti c'è fruit tra becce twitch partiamo subito ragazzi allora prima notizia prima notizia ovvero che elmott marco dice che secondo lui ferrari non è stata più veloce della red bull questa è una notizia che molti hanno detto anche io vi ho detto che secondo me nell'arco della stagione ferrari è stata complessivamente più veloce lui dice che non è vero lui dice che parecchie gare sono giocate sul filo dei secondi anche in francia quando leclerc comunque si è girato e versappen aveva fatto il pit stop versappen era veloce era molto vicino però ragazzi andiamo a vedere proprio nel concreto ferrari da quello che penso io è stata più veloce di red bull marco chiaramente tirare acqua al suo mulino non c'è settimana che non rilascia qualche dichiarazione vi dico la verità il 90 per cento di quello che dice elmott marco sono cazzate a inizio mondiale aveva detto che ferrari stava dietro di mezzo secondo rispetto ai migliori quindi pensate un po voi che mercedes era la rivale pensate un po voi quanto può capire questo di prestazione di formula 1 quindi è una la solita intervista che lui fa per esaltare il suo team ma vorrei vedere se l'avesse fatta quando ferrari stava appaiata a red bull in classifica comunque record per emilton nonostante quest'anno la stagione non si sta rivelando positiva anche se fia ci sta cercando di mettere una pezza in tutti i modi per far tornare mercedes essere competitiva anche nella ultima parte stagione emilton ha un record ovvero i giri percorsi in gara è colui che ha percorso più giri in gara effettivamente se c'è un qualcosa in cui mercedes è stata fenomenale quest'anno nell'affidabilità perché è riuscita a non avere problemi di affidabilità praticamente mai quindi emilton detiene questo record è chiaro che l'inglese informato della cosa ha detto sì però nella seconda parte di stagione voglio provare a vincere una gara secondo me io ho detto mercedes una gara gliela fanno vincere in tutti i modi succederà qualcosa che vinceranno una gara poi mi fa ridere quando parlano i componenti del team ferrari mickey mouse che poteva dire braccio d'est di binotto al muretto gli ordini di scuderia ha detto mickey sono più discussi all'esterno che all'interno quindi ha fatto capire voi parlate degli ordini di scuderia non ce ne fregano cazzo cioè ragazzi vedete queste sono dichiarazioni con i annessa a quelle di binotto che ci fanno capire quanta presunzione ci sia all'interno del team ferrari nel dire siamo scarsi facciamo cagare nelle strategie però a noi non ce ne frega un cazzo cioè è qualcosa che secondo voi è gestibile cioè mickey dovrebbe dire come binotto ragazzi è un mondiale buttato per delle strategie folli che abbiamo fatto perché quella la realtà no mickey dice vuoi parlare di strategie noi giochiamo a kart che ce ne fregano di parlare delle strategie all'interno del team cioè che cazzo vuoi parlare fammi capire ma se tu ci stai a perdere un mondiale che potevi vincere per colpa di strategie vergognose e mica l'ammetto continuano a dire no vabbè ma tanto alla fin fine errori dei piloti gli alieni gli ufo la madonna di l'urdo c'è ferrari quest'anno il mondiale lo sta perdendo per le strategie perché i ritiri dei piloti due ritiri di leclerc vanno a fare il paio con quelli di verstappen gli errori dei piloti sì un errore ha fatto leclerc grave in francia che gli è costato la gara che tra cui anche problema del box perché scusate elmuth marco ha detto ferrari si spinge troppo nelle strategie alle volte mette in difficoltà i piloti che c'hanno le omusurate e devono spingere è la verità quindi ferrari avrebbe potuto fare molto meglio se non fossero stati problemi al muretto che gli hanno fatto giocare le vittorie perché alla fin fine se alle clerche gli metti la vittoria a silverson la vittoria a monte carlo cioè gli metti queste vittorie in più e le clerche dove sarebbe ora non ci prendiamo per il culo è anche l'errore in francia che è stata colpa del muretto e quelli in ungheria vedete le clerche con almeno ci avrebbe 50 punti in più sì sarebbe sempre distaccato da verstappen ma non così tanto ma va bene demon hill ex campione del mondo 96 dice alonso secondo me può continuare fino a 44 anni io non gli darei sti input alonso perché secondo me se alonso sente ste notizie continua fino a 70 ci piglia la pensione in macchina vedete alonso con la bustarella della dell'inps dentro la macchina sì è vero alonso sta dimostrando di essere un pilota eccezionale perché alla fin fine si è allungato anche tutto il percorso di durata di un pilota negli anni 90 raga arrivato a 36 anni eri vecchio ti dovevi ritirare salvo rare eccezionale 37 poi ci fu manza e corse fino a 40 però come corse dopo un rientro da un anno sabbatico però alonso sì sta dimostrando integrità io penso che possa fare i prossimi due anni bene quindi aver scelto l'aston martin è una scelta giusta però raga c'è anche da dire che alonso a quell'età il decadimento di prestazioni fisiche magari di riflessi e tutto può accadere all'improvviso quindi non è detto vedremo però anche io sono d'accordo che alonso può arrivare a 45 anni in macchina 44 gasli dice sono pronto per un top team dopo cinque anni di formula 1 mi sento completo beh raga sostanzialmente gasli dice anche che poi l'alfa tauri quest'anno non sta andando bene che è una vettura molto stabile nel veloce molto più stabile nelle curve lente quindi ogni volta che trovo una pista ci sono curve veloci siamo in difficoltà però mi sembra tanto una proposta che sta facendo gasli una dichiarazione che sta cercando di mettere in luce la volontà di gasli perché sostanzialmente vi ho detto gasli è in odore al pin si deve capire perché chiaramente al pin poi dovrebbe pagare una penale ad alfa tauri che lo ha messo sotto contatto fino al 2000 per tutto il 2023 e qua vi dico perché firmare un contratto in una parte iniziale della stagione fino al 2023 non puoi aspettare l'ultima parte di campionato e vedere più o meno le squadre come stanno per firmare questo metto contratto no gasli ha firmato in anticipo e adesso giustamente per andare in al pin se al pin non lo volesse davvero perché ancora da vedere la cosa però devi prendere devi rompere il contratto con alfa tauri penale certamente mi sembra una dichiarazione appunto di gasli che si sta mettendo in luce sta facendo capire che lui è pronto io ve l'ho detto ragazzi gasli non ci vuole rimanere in alfa tauri non ci vuole rimanere perché sa che non potrà portare nulla di concreto alla sua carriera gasli vuole un top team ma anche ripeto al pin è comunque un team che è un team ufficiale è francese ha la possibilità di crescere tanto perciò secondo me è una dichiarazione che porta gasli a mettersi in luce per i team che fossero interessati questa è la mia impressione valterino bottas che dice ora sì che mi diverto di più rispetto al passato perché innanzitutto un contratto pluriennale in mercedes mi facevano il contratto sempre per un anno e quindi ogni volta sta rispondo alle domande sul futuro e dovevo sta pensare al futuro se non mi rinnovavano e invece qua ho un contratto pluriennale mi posso dedicare alla guida è divertente stare nel centro gruppo rispetto a che stare davanti dove lottavamo al massimo con una due macchine e io aggiungo spesso le prendeva al centro gruppo si battaglia ci sono più vetture con cui lottare e mi sto divertendo veramente tanti ve l'ho detto ragazzi che botta secondo me sollevato dalle pressioni mercedes avrebbe potuto fare comunque una parte una seconda parte di carriera ottima è chiaro che sta pagando come tutto il team alfa romeo le incertezze che alfa romeo perché a livello di affidabilità e di prestazioni è calata la vettura speriamo che torni ad essere competitiva nell'ultima parte di stagione perché nella prima parte di campionato veramente alfa romeo è stata il top la sorpresa più bella guagno zu guagno zu che dice non mi sento in pericolo però la realtà è che alfa romeo lo sta mettendo in ballottaggio con altri piloti allora c'era un pilota che non mi ricordo delle formule più basse non mi ricordo chi perché non le segue non mi interessa però vi dico io state attenti perché se schumacher non verrà confermato in ass potrebbe andare in alfa romeo per veto della ferrari perché ferrari per me schumacher non lo lascia a piedi anche per riconoscenza del padre per la speranza di poterlo far salire sulla rossa negli anni futuri quindi se as non conferma schumacher schumacher secondo me va in seno alfa romeo al posto di zu sono certo di questo perciò vedremo cosa accadrà a meno che ferrari non lo divaga è dirotta in altre competizioni alla fine vediamo che ci sta la maserati in formula e ci sta la ferrari nel web però non penso che bruci questo pilota quindi francamente le parole di zu sono lasciano il tempo che trovano felipe massa ex pilota ferrari che ha rischiato di vincere il mondiale del 2008 dice binotto non è responsabile unico di quello che sta accadendo in ferrari ma è in gran parte lui il responsabile perché dice è inutile negare che ci sia un problema con il muretto ferrari con le strategie col pit stop dice massa e binotto non si può esimere dalle sue colpe non può dire che non c'è questo problema non può far finta di niente soprattutto massa rivendica il fatto che sono problemi che ci sono da inizio anno e sostanzialmente ferrari non è riuscito a risolverlo lui dice francamente quando c'è un problema un team che ha una forza di reazione importante prende e risolve il problema invece noi da inizio anno stiamo vedendo ferrari ripercorrere sempre le stesse problematiche e non risolverle sostanzialmente perciò raga secondo me c'ha ragione massa un problema un conto è che tu fai una prima parte di mondiale male e poi le cose migliorano inizia a migliorare da tutti i punti di vista un conto è che tu fai gli stessi errori inizio mondiale a fine mondiale è inconcepibile chiudiamo con la notizia bombola della giornata science critica le clerk e già qui la notizia è incredibile perché science critica le clerk e i piloti che come le clerk si cimentano nelle nella guida delle vetture storiche perché dice è inutile rischiare in quel modo si riferisce lo spagnolo all'incidente di le clerk a monte carlo ma anche al fatto che bettel per esempio ultimamente stia guidando tutte le macchine storiche la williams di manzi alla stone martin e science dice è inutile rischiare perché francamente soprattutto quest'anno riferito alle clerk che stai lottando per il mondiale un incidente banale con una vettura storica ti può costare un infortunio che poi non ti porta a essere strommesso la lotta per il mondiale non solo questo science dice anche anche perché io sono stato il primo a provare vetture storiche non in eventi ufficiali perché cosa accade quando tu partecipi ad un evento una vettura storica ha detto inevitabilmente metti il piede giù acceleri perché sai che magari non ti ricapiterà più di guidare quella vettura specifica e vuoi fare bella figura il pilota quando entra in macchina spinge quindi non è che ti riesce a limitare è impossibile guidare una vettura storica col braccio fuori dal finestrino che non ce l'hanno manchi finestrino aggiungo io però lui dice una volta che ti imbarchi in un'avventura del genere a quel punto spingi e rischi di farti male non a caso c'è un video che io vi ho messo sul canale quando accade l'evento di leclerc che poi i soliti fenomeni che stai a dire la fin vine a casa sua una situazione storica che lui voleva far vedere no io vi dicevo ragazzi non è questo il discorso è che tu vedi una macchina degli anni 70 con la tecnologia degli anni 70 sì magari un po di sicurezza in più l'hanno ammodernata ma se sbatti ti puoi fare male facilmente e ti vai a giocare l'occasione all'epoca leclerc che era pure primo nel mondiale quindi io sono stato il primo a criticare e ci sono state le solite capre che hanno detto che è sbagliato criticare gli eventi storici sono fatti l'evento storico lo fai quando il pilota finisce la sua carriera non nel mezzo della carriera che si fa male e poi non corre più vedi se lo fanno gente come verstop e negli altri sti eventi storici ciao voglio ciao